Ciao a tutti, oggi prepareremo la fagiolata con funghi porcini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono sedano, carota, cipolla, olio, pepe nero, funghi porcini secchi ammollati in 300 g di acqua, fagioli lessati, un cucchiaino di dado vegetale bimbi, origano secco, prezzemolo, basilico e pomodori piccadilli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e la cipolla, basilico e prezzemolo, i pomodorini. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo i bimbi per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo i funghi fagioli, sgocciolandoli dall'acqua, tenendo da parte l'acqua di cottura. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo adesso i fagioli, l'acqua di ammollo dei funghi, e il pepe. Cuociamo per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. La fagiolata è pronta, andiamo a impiattare spolverizzando con l'origano. Fagiolata con funghi porcini. Grazie e alla prossima ricetta! Fagioli